La notizia della morte di David Bowie sta circolando in rete ormai da qualche ora e sta rimbalzando di sito in sito come era prevedibile che fosse. I moltissimi, dopo aver letto le parole che andavano via via diffondendosi, avranno pensato ad una delle tante bufale che spesso appaiono sul web. D'altra parte non è la prima volta che qualche buon tempone dà per morto un personaggio dello spettacolo. Purtroppo però questa volta è la verità. La notizia è stata pubblicata inizialmente sulle pagine social del cantante e poi, vista l'incredulità dei fans che in gran numero si sono precipitati a chiedere spiegazioni, anche il figlio maggiore di David Bowie, Duncan, ha voluto dare conferma della scomparsa del padre direttamente dalla sua pagina Twitter. Duncan Zoe Jones, nato dal matrimonio di David Bowie con Angela Barnett, ha postato una foto che ha commosso i molti fans di suo padre. La foto lo ritrae da piccolissimo sulle spalle di un David Bowie giovane e sorridente. Sono molto dispiaciuto e triste nel dirvi che è vero, sarò offline per un po'. Questo è il messaggio di poche righe che accompagna la foto. Duncan Jones, oggi 44enne, è un affermato regista molto apprezzato non solo dal pubblico ma anche dalla critica. David Bowie ha sempre mostrato di essere molto orgoglioso dei risultati raggiunti da suo figlio, al quale ha senza dubbio trasmesso il senso dell'estetica e l'amore per le arti visive. Grazie. 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 Grazie.